Il giorno raggiunge i 100.000 iscritti Io pretendo che tu arrivi, vai a Varese, vai nella pizzeria del Gabibbo Ma io lo pretendo Io lo giuro, se un giorno raggiungerai 100k, pure se tra 20 anni con un altro canale Io andrò nella pizzeria del Gabibbo, lo dico A Varese A Varese, l'ho vista nel video di fondo Tu vai a Varese al Gabibbo Ed è importante Ed è molto importante Cioè, io voglio che ogni volta che mangio quella pizza, nella mia testa rimbombi Papere Oh, splash Belandi Belandi, amici di Striscia Sabe che il Gabibbo è stato anche su Striscia? È un personaggio di Striscia Hai poca cultura Gabibbica Scusa, io Gabibbo me lo vedevo a casa di mia nonna Tu sei un Normi, vedi solo i memes Non sono un vero fan del Gabibbo Scusa Scusa